Vladimir Yankelevich nasce a Bourges nel 1903 e muore a Parigi nel 1985. Yankelevich ha insegnato all'istituto francese di Praga e all'università di Tolosa e di Lille. Dal 51 al 77 è stato titolare della Cattedra di Filosofia Morale all'Università Sorbona di Parigi. Yankelevich non è stato solo un filosofo, è stato anche un esperto di musica ed è gli stesso pianista. Nel 1944 ha diretto i programmi musicali di Radio Toulouse-Pirene e durante la Seconda Guerra Mondiale ha partecipato in modo attivo alla Resistenza. Successivamente si è dedicato con zelo alla causa di Israele, Yankelevich era infatti di origini ebraiche e sia altresì dedicato con solerzia alla difesa delle minoranze. Nel 65 ha sostenuto su Le Figaro di Terer che Heidegger aveva magnificato in un suo discorso l'attacco tedesco alla Russia. Contro questa posizione ha polemizzato François Fédier, professore di filosofia a Neuilly. Francese di lingue e di cultura, nonostante il nome, Yankelevich è un pensatore poco studiato in verità e ciò anche in ragione del fatto che si tratta di un intellettuale non facilmente classificabile in ogni linea di pensiero possibile. Yankelevich è decisamente originale e versatile e ha svolto riflessioni che assumono spesso la forma della critica musicale. Nella riflessione filosofica di Yankelevich il problema musicologico risulta in effetti di grande rilievo e costituisce, se vogliamo dire così, la cornice entro la quale si collocano tutte le sue riflessioni filosofiche, un po' come se il pensiero filosofico di Yankelevich maturasse dalla riflessione sulla musica, in una specie di musicologia dell'essere. La riflessione sulla musica rappresenta dunque il luogo prediletto di Yankelevich, il luogo fondamentale anche per capire il suo pensiero, ed è proprio sul problema ontologico intorno all'essenza della musica che Yankelevich si misura senza tregua con Henri Bergson, uno dei filosofi che maggiormente ha inciso sulla formazione dello stesso Yankelevich. Come aveva insegnato Bergson, la musica è percezione del tempo, o più precisamente la musica è percezione di un tempo despazializzato, tema che consente a Yankelevich di introdurre il tema della intuizione musicale. D'altro canto l'incidenza di Bergson si manifesta in tutti gli autori francesi del novecento, benché Yankelevich sia sottoposta a decisive rielaborazioni. Il punto di vista musicologico di Yankelevich si inscrive appieno nella crisi della metafisica e del sistema tonale. Yankelevich ha sempre svolto parallelamente studi musicali e studi filosofici, senza tregua, passando dal pianoforte alla scrivania. L'evento che indubbiamente ha più segnato la vita e il pensiero di Yankelevich sono state le persecuzioni naziste ai danni degli ebrei, tema al quale il nostro autore dedica larga parte della sua riflessione filosofica. Tra le opere più importanti di Yankelevich ricordiamo Henri Bergson del 31, con prefazione dello stesso Bergson, L'ironia, Trattato delle Virtù del 49, Debussy e il mistero del 49, Filosofia prima del 54, Il perdono, La musica e l'ineffabile del 61, Il non so che e il quasi niente del 67, L'avventura, La noia, La serietà, Perdonare, Il paradosso della morale, La coscienza ebraica. Yankelevich è stato un filosofo molto stimato anche da Jacques Derrida e ha sviluppato una filosofia che si pone a tutti gli effetti come un ribaltamento metafisico delle tradizionali categorie. Addirittura Yankelevich si avventura spezzare in essi con la scienza e con i valori dominanti, valori che, compromessi col potere politico, hanno fatto rampollare le più grandi tragedie storiche che hanno attraversato il secolo breve. Quello di Yankelevich, a un primo sguardo, sembra essere un decostruzionismo che porta al nichilismo. E però Yankelevich non si limita alla pars destruens, al contrario prova a edificare una filosofia fondativa, una filosofia che addirittura si spinge a qualificare come filosofia prima, la protefilosofia di Aristotele, una filosofia prima in cui senso e non senso si fondono e si confondono. Quello di Yankelevich è dunque un rigetto dell'ordine dominante ed è altresì un anelito verso un ordine di altro tipo, ma che è pur sempre un ordine. A quest'ordine, altro, Yankelevich assegna il nome di ineffabile. Con questa definizione vuole mostrare come si tratti di una sfera fondante e altresì sfuggente alla presa dei concetti, una sfera che solo la musica sembra in grado di cogliere. Accanto alle decisive riflessioni sulla musica, Yankelevich si concentra abbondantemente anche sul tema del perdono, soprattutto in relazione alla Shoah. Specialmente nei due scritti il perdono e perdonare, il tema diventa decisivo. In maniera paradossale sono due testi che approdano a risultati antitetici. Il saggio Il perdono è un testo filosofico sul perdono, mentre perdonare è un violento pamflet contro i crimini di cui si è macchiato il popolo germanico. Nel saggio Il perdono, Yankelevich giunge a teorizzare una etica iperbolica, un'etica iperbolica che riconosce la possibilità del perdono come possibilità estrema. Dice Yankelevich che il perdono autentico può essere accordato solo a un crimine imperdonabile. Infatti non ha alcun senso perdonare il perdonabile. In questa cornice di senso è solo all'imperdonabile che deve autenticamente rivolgersi il perdono. Come ha suggerito Jacques Derrida, siamo al cospetto di una poria. Tra perdono e impossibilità di perdono viene a istituirsi un nesso inestricabile, quasi una tensione dialettica tra possibilità e impossibilità. Sicché il perdono figura come un paradosso, ed è un paradosso proprio in ragione del fatto che la possibilità di perdonare si dà solo ove vi sia l'imperdonabile. A proposito del nazismo e del popolo tedesco, Yankelevich ha parole davvero dure. Così dice, il perdono non è fatto per i porci e per le loro scrofe. Il perdono è morto nei campi della morte. Queste parole sono tratte dal saggio perdonare. La Shoah è, a giudizio di Yankelevich, l'inespiabile par excellence, e proprio per questo non può darsi perdono per la Shoah. L'irrevocabilità, l'incancellabilità, l'inespiabilità della Shoah adombrano l'impossibilità di concedere il perdono, o più precisamente l'impossibilità di tornare sul passato e di toccarne la memoria. Il perdono viene a configurarsi allora come una sorta di eccezione assoluta. Già Kant aveva sottolineato come il perdono potesse essere concesso soltanto a opera della vittima e non da altri. Questa tesi, se applicata alla Shoah, si pone come assai problematica, e si pone come assai problematica da che le vittime non ci sono più. Soprattutto Yankelevich attacca duramente tutti coloro i quali vogliono cancellare il passato mediante il perdono, facendo magari ritorno a quel che vi era prima che il misfatto venisse attuato. Ebbene, dice Yankelevich, accordare un simile perdono sarebbe del tutto immorale, oltre che assurdo. Un perdonare autentico deve essere semmai inteso come un andare oltre il crimine, senza tuttavia azzerarne la memoria, anzi mantenendola sempre viva. Detto in altro modo, il perdono non può in alcun caso annullare il male. Alla fine del saggio Il perdono, Yankelevich affronta il tema del risentimento, tema che sembra rimandare a Nietzsche, ma che in realtà nelle pagine di Yankelevich viene sviluppato in maniera diametralmente opposta rispetto a Nietzsche, dove non si può fare alcunché, si può almeno risentire inesauribilmente. Non si tratta dunque del rancore, ma semmai di un orrore intramontabile per quanti hanno compiuto il male, per quanti non si sono opposti, per quanti già hanno obliato. Nei suoi dialoghi con il premio Nobel Elie Wiesel, Yankelevich ha insistito ad abundanzia sul tema del testimone. Il testimone è colui il quale è custode della fiaccola sacra del ricordo, colui che risente le ferite del tempo. Il testimone ravviva la memoria e la memoria obbedisce a una logica reiterativa e commemorativa. Dopo la pubblicazione del saggio Il perdono, Yankelevich ha una corrispondenza epistolare con un cittadino tedesco. Non dimentichiamo che Yankelevich aveva sostenuto che oggi i tedeschi dormono bene e hanno del tutto scordato le loro colpe. Il cittadino tedesco scrive a Yankelevich che pur essendo tedesco non ha ucciso nessuno e non dorme affatto bene la notte, al contrario si sveglia spesso a pensare con sgomento alla Shoah. Dice inoltre che se passerà a trovarlo in Germania non parlerà a Yankelevich di Hegel o di Nietzsche e non gli farà sentire musica tedesca. A questa lettera Yankelevich risponde asserendo che erano 35 anni che attendeva una simile lettera. Dice che è vecchio per andare a trovarlo in Germania ma che se passerà lui da Parigi si potranno mettere insieme a suonare il pianoforte.